Prima di lasciarci, volevo far vedere un gruppo innanzitutto al gruppo bandistico, che ovviamente stasera si è esibito ad alto livello. E poi un augurio a tutto il gruppo bandistico e a tutti voi che avete partecipato in questa serata di un bel Natale. Se vedo Natale, voi e le vostre famiglie, allora augurio è quello di vedersi voi 24 serea, per vivere il Natale religioso, accogliere Gesù nella nostra vita e colportare in questo Paese. Quando c'è Gesù c'è pace, c'è solidità e c'è speranza. Auguri a tutti!